In mezzo a un'immensa distesa di sterpaglie, il vecchio edificio dell'ente spettacolo era una nave affondata nell'oblio. Erbe e rampicanti avevano invaso le finestre e sui muri scrostati ancora si intravedevano gli affreschi della rivolta dei suggeritori e la fucilazione dei presentatori doppio giochisti. I fiori che una volta ornavano al viale d'ingresso avevano resistito al tempo e così spuntavano gardegne, tramucchie di ghiaia, tulipani tra i laterizzi, bougonville su macerie scheletriche, pettunie da travi crollate. Era come se la mano pietosa della vedovanza botanica avesse deposto il suo omaggio in quel cimitero abbandonato. Entrammo da una porta sfondata e percorremmo un lungo corridoio pieno di statue. Erano i vid, ovvero i vip dimenticati, quelli che il regime aveva sostituito con nuovi idoli. Sui piedistalli una mano impietosa aveva tracciato Mesti e Pitaffi. Ci soffermammo su alcuni. Roberto De Pasquale era il più sciocco, banale e demenziale, ma uno assai più sciocco di lui apparve che di colpo lo fece apparir normale. Così tramontò Roberto De Pasquale. Aldo Vernacolone divenne famoso per una canzone in cui cantava Che bella che sei per un totale di volte 86, ma poi venne Alfio Vernagiotto che cantò Che bella che otto, per volte 168, e per le ferree leggi del mercato Vernacolone finì dimenticato. Nico Chiambrone inventò una nuova forma di teletrasgressione, entrando nella cucina dell'onorevole mentre faceva colazione. Ma subito appresso Nico Cipresso, con la telecamera, riuscì a entrare nel successo, e Nico Chiambrone ci restò come un fesso, chissà cosa farà adesso. Johnny Hall amava il sesso, la coca e lo speedball, era una belva del rock'n'roll. Poi venne Johnny Balena che vomitava in scena, poi venne Joe Baleti che ingoiava i criceti, poi venne Johnny Barilli che si trafiggeva con gli spilli, poi venne Joe Ballina che beveva varechina, poi venne il regime che a tutto mise fine, poi venne Johnny Belle Bambine che cantava il rock delle paperine, con un costumino di trine. Era sempre Johnny Hall che per mangiare si era scelto un genere più popolare, però che brutta fine. Francesca Natale aveva la bocca più grande e sensuale e quando diceva ciao sul canale nazionale ogni uomo trasformava in maiale e ognuno sarebbe annegato in quel lago di rossetto contornato. Ma dopo due settimane apparve Francesca delle Piane che aveva la bocca come un pesce cane, sette volte una bocca normale e Francesca Natale fu cacciata dalla tv nazionale state pur certi che è finita male. Arrigo Barchina era il maestro della velina con la sua voce di vaselina, incantava il farmacista e la maestrina, ma venne Giorgio Galeone il maestro del velone. Quando leggeva del gerarca le gesta fuoco e fiamme gli uscivano dalla testa e spaventoso era il suo vocione. Il povero Barchina sembra una peghina, fu cacciato dalla sera alla mattina, ora solo e malato su una panchina, legge le istruzioni della Coramina. Attilio De Mori era il re dei presentatori quando diceva signore e signori, tutti si sentivano davvero signori nei più poveri ostelli nei miseri tuguri, ma un giorno si svegliò e per caso gli era cresciuto un brufolo sul naso e non ci fu né luce né cerone che poteva nascondere l'imperfezione. Così fu cacciato dalla televisione, ora col naso finto e il viso dipinto, fa il pagliaccio in un circo da poche lire, è felice ma non si deve dire. Dopo la sala dei vid i corridoi si restringevano e avanzammo a fatica tra migliaia di metri di pellicola che si avviluppavano ovunque come un rovetto misterioso. C'erano catasti di televisioni sequestrate dai tempi in cui fu dichiarato fuori legge ogni televisore con più di tre anni di vita. C'erano costumi di scena ammarciti, topi scorrazzavano quella, brillanti dei lustrini in cui si rotolavano, topi rossi, topi dorati, topi arcobaleno, topazzi. Da una finestra ci calammo in un cortile interno, il paesaggio cambiò. Tutto era bianco e polveroso come su una base lunare, una serie di edifici piramidali con un numero luminoso brillavano nella notte. Andavano dal 12 all'1 i magazzini della realtà primaria. Davanti a questi magazzini c'era un grande movimento, essendo infatti il loro contenuto importantissimo e segreto, erano sorvegliati da uno speciale e modernissimo esercito. Ma quello che si presentava ai nostri occhi, più che un esercito in funzione, sembrava un balletto o l'ora d'aria di un manicomio. Gente vestita in modo strano andava e veniva senza un motivo preciso, reggendo oggetti o spostandoli e salutandosi in modo bizzarro. Di tanto in tanto qualcuno lanciava un urlo o un rimprovoro senza aver nessuno di fronte. C'era chi abbozzava strani passi di marcia, chi correva in circolo, chi sparava in aria. Precedendo la nostra domanda, René Lamuca ci spiegò. Questo che vedete è un moderno esercito segreto. Secondo le più recenti teorie di cripto strategia della simulazione e guerra psicologica, ciò che è contenuto nei magazzini è così segreto che non può essere protetto con i normali apparati difensivi. Se i nemici o i ribelli vedessero davanti ai magazzini elicotteri, carri armati o soldati in assetto di guerra, capirebbero subito la segretezza di questo luogo. Inoltre ci sono qui cose così segrete che non a tutti i militari ha permesso conoscerle e quindi alcuni non conoscono i segreti e si comportano di conseguenza, altri conoscono i segreti ma non possono mostrare di conoscerli in quanto rivelerebbero il loro ruolo segreto di conoscitore di segreti. Altro particolare, essendo i segreti così segreti, la punizione in caso di errore è severissima. Solo stando lontano dai segreti si potrà dire io non c'ero, non centro, non ero di turno. Quindi, nonostante ci sia l'obbligo di sorvegliare strettamente i segreti, tutti cercano in pari tempo di non trovarsi vicino ai segreti. Cosa resa possibile dal fatto che coloro che sorvegliano, che si sorvegliano i segreti, sono spesso altrove in quanto non vogliono trovarsi vicino ai segreti in modo da poter dire che non erano loro a sorvegliare i sorveglianti dei segreti qualora si verificassero violazioni dei segreti. Capisco che tutto ciò non è facile da spiegare ma l'effetto è sotto i vostri occhi. Altra difficoltà, secondo la nuova circolare di segretezza nessuno deve essere vestito da militare tranne i corpi speciali da parata. Tutti sono vestiti da civili ma non troppo in quanto devono essere riconoscibili i gradi. Allora, i soldati semplici hanno i jeans, i sergenti una giacca quadrigialla, i capitani una tuta da footing con tre stelle sul dorso, i maggiori stivali camperosi storiati, i colonnelli sono riconoscibili dal numero dei bottoni del doppio petto, 16, mentre i generali, dovendo essere più segreti, sono vestiti da soldati semplici ma hanno la sciabola. Altro particolare, le armi. Tutti le tengono nascoste o dissimulate. Potete vederle spuntare da giacche e tasche, fucili travestiti da ombrelli, proiettili portati come orecchini. Ci sono dei carri armati schierati ma col cartellino del prezzo, in modo da sembrare lì solo per essere venduti. E vedete là un elicottero senza elica, in modo che il nemico diventi matto a chiedersi come possa decollare. Non può? Questo è il segreto. Inoltre, in un moderno esercito segreto tutti devono fare qualcosa, ma nessuno deve fare qualcosa di preciso che sveli le sue mansioni. Bisogna quindi essere militarmente svagati, vigilare distrattamente ed essere combattivamente assenti. Ecco i soldati andare qua e là spostando casse, cassette, bombe, scope, lavandini, ognuno passando davanti a un superiore all'obbligo facoltativamente imperativo di salutarlo in modo segreto per non tradirlo. Alcuni fanno gesti strani con le mani, altri tirano fuori la lingua, altri hanno imparato a muovere le orecchie. I caporali sorvegliano che nessuno marci, poiché niente più di una marcia rivelerebbe il numero, l'inquadramento e le mansioni di un plotone. I soldati devono quindi rigorosamente non marciare, guai a ritmare più di tre passi. Il caporale deve guidare la loro non marcia senza guardarli. Il sergente deve ispezionare la pulizia delle latrine, ma essendo le latrine, anche se segrete, è vietato usarle. Per questo il sergente ogni tanto si arrabbia e fa un cazziatone, come potete vedere in questo momento, a nessuno. Quelli che stanno sempre immobili sono i capitani, i quali devono assicurarsi che le sentinelle siano al loro posto, ma per ovvi motivi di segretezza non ci sono sentinelle. I capitani passano il loro tempo leggendo fumetti Sadomaso con grande disorientamento del nemico. I colonnelli avrebbero il compito di intrattenersi democraticamente con la truppa, ma se lo facessero rivelerebbero il loro grado. Sono quindi condannati a girovagare per chilometri senza poter parlare con nessuno. Per ultimo ecco il generale che ispeziona la caserma. È quell'ometto che scopa le cartacce e che tutti salutano portandosi due mani alla testa o facendogli un pernacchio, un misto di deferenza e disprezzo che confonde avilmente le idee al nemico. Tutto questo può sembrare folle, inutile e dispendioso, ma un vero esercito moderno, segreto e aperto ai problemi del paese non può comportarsi diversamente. Non dubitate, se ci sarà da uccidere si tornerà ai vecchi metodi. Voi sapete bene cosa succede a chi cade nelle loro mani. Ma niente paura, concluse René la mucca guardandomi negli occhi. Questi segreti sono nulla rispetto a quelli che alcuni di noi custodiscono nel cuore, perché come dice il Baolian, il vero segreto è il tuo respiro quando dormi. Non ti facevo così colto René, dissi un po' inquieto. Voi Baol sottovalutate sempre tutti. Ogni lottatore di catch, prima di essere ammesso a combattere, deve studiare semiotica dell'aggressività, teatro giapponese e mind building. Basta chiacchiere, intervenne Alice. adesso tu, Baol, devi dirci come faremo a passare. Non sarà facile, rispose. Tu, Alice, vai avanti col microcomputero ben in vista. Noi due seguiremo cantando a media luce. Io ogni tanto mi fermerò per comunicare a qualcuno la seguente parola d'ordine. E sotto l'albero dell'albicocca sta a Ludovico con un tappo in bocca. Così l'orecchio del vilnemico nulla saprà da Ludovico. Così fu. La somma di questi spettacolari effetti indusse tutti a pensare a una missione di segretezza inimmaginabile e i militari si fecero da parte, perché se la missione era vera non volevano o potevano mettere il naso in un segreto così segreto. Se d'altra parte era falsa, non volevano essere coinvolti nella possibile inchiesta segreta che ne sarebbe inevitabilmente conseguita. Senza alcun problema, giungemmo così fino all'ultimo magazzino, sovrastato da una montagna di immondizia coperta di gabbiani. Alice conosceva bene i codici di avvicinamento. Il primo era il verso dell'aquila Aldamara, un'aquila così rara da essere estinta, che si cibava esclusivamente di gabbiani e il cui urlo terribile risuonava nell'inconscio collettivo mitologico del gabbiano, riempiendolo di terrore. Il verso era più o meno questo. Udendolo i gabbiani si levarono in volo come un solo uomo, questa frase tipica della lingua vaola. Individuammo così nel mucchio di immondizie una porticina segreta. Alice l'aprì con il codice acustico del microcomputero. Entrammo, mentre la porta si chiudeva alle nostre spalle in un aroma di uovo marcio e pattumaglia, udì nel cielo la voce armoniosa del maestro che diceva «Ora conoscerai il tuo segreto, Bedrosian Baol». Seguirono otto battute della notte del Monte Calvo di Musorski. Al maestro piacevano questi effettacci. Immobile e marmoreo, il gerarca Enoch stava seduto davanti ai microfoni ormai da 22 minuti. In questo tempo non aveva ancora detto una parola, ma nessuno dei numerosi giornalisti osava obiettare qualcosa, né andarsene, né tantomeno tossicchiare. Si scambiavano però occhiate interdette. Il gerarca aveva occhiali molto spessi, dietro ai quali si intuiva che gli occhi erano ben aperti, quindi non dormiva. Un lieve sobbollimento della carotide dimostrava che respirava regolarmente, quindi non era morto. C'era poi un particolare decisivo. Osservando attentamente la sua mano destra abbandonata sopra alcuni fogli di appunti, si notava che due dita, precisamente l'indice e il medio, erano percorse a tratti da piccoli spasmi i quali, se non si potevano ancora chiamare tamburrellamento, suggerivano comunque l'idea che il gerarca stesse pensando. Passarono altri 12 minuti per un totale di 34. Un giornalista, che era da tempo proteso in avanti col microfono in mano, ebbe un crampo e il microfono cadde. Fortunatamente era foderato di gomma piuma antivibrazioni e non fece molto rumore. Il giornalista si chinò a raccoglierlo. Parvei più che gli occhi del gerarca seguissero con severità quest'operazione. Sicuramente alzò un sopracciglio. L'eccitazione pervase la sala. Si eressero le penne e scattarono i registratori. Sta per succedere qualcosa di grosso, telefonò un redattore al giornale. Purtroppo dopo alcuni istanti il sopracciglio tornò a livello abituale. Seguirono altri dieci immobili silenziosi minuti. Una mosca entrò nella stanza e sorvolò stupita a quel museo di cere. Il poeta di corte Alonso Garbo scrisse di getto sul tacquino. Quale villaggio sotto rupe nevosa ne teme ogni vibrar e ogni rumore. Talla plebaglia di fronte allo signore stavasi intimorita e silenziosa. Dopo un'ora e venti minuti il labbro inferiore del gerarca iniziò a separarsi dal labbro superiore in modo lento ma inequivocabile come diostravano le foto in sequenza scattate dai fotografi. Il gerarca stava quindi per apprestarsi a parlare o a sbadigliare comunque a uscire dal letargo. Qual orso che fuor di suo rifugio lo capomena che d'inverno ascose e incerto arruffa le membra pelose che di nuovo dormir gli punge indugio. Dopo un'ora e 46 la bocca del gerarca era del tutto aperta ed erano visibili le tonsille, la faringe e le otturazioni del secondo e terzo molare. Dopodiché così parlò. In merito ai gravi fatti di ieri tutto è stato chiarito. Il compositore Baldini è stato vittima di un errore nel manovrare un circuito laser. In quanto al dottora Tarva ogni voce della sua scomparsa è del tutto infondata. Egli si trova in vacanza in località marina da cui ci ha spedito una videocassetta. Qual è la folgore che lo nembo squarcia tale il suo detto in dubbiosa assemblea, feluce d'ogni voce ria e marcia e di calugna sciolse la canea. Seguirono altri dieci minuti di silenzio. Nessuno si azzardava a fare domande finché timidamente un giornalista esordiente disse essendo a Tarva un compositore di realtà non potrebbe, ecco sì insomma, non potrebbe avere composto una videocassetta falsa. Il gerarca rise. Tutti risero. Il gerarca rise più forte. Tutti risero più forte. Il gerarca scosse la testa. Tutti lo imitarono. Il gerarca diede un pugno sul tavolo. Tutti diedero un pugno sulla schiena di quello davanti. Quello davanti se lo diede sul petto. Poi il gerarca disse no. Una doccia gelata piovendo all'improvviso dal soffitto segnalò che la conferenza stampa era chiusa. Tutti i giornalisti tornarono alle rispettive rispettive sedi tranne uno.